Molto poco conosciuta Perché da noi la reincarnazione è molto poco conosciuta? Commento Perché in Occidente la reincarnazione è stata sempre negata dalla Chiesa? A cominciare dal concilio di Costantinopoli del 553 e perché molta scienza ufficiale non ha interesse per gli argomenti spirituali che non possono essere indagati dalla mente La mente infatti è impari a spiegare tutto ciò che non proviene da se stessa ma dalla coscienza La reincarnazione invece è presente nel credo religioso di oltre il 50% dell'attuale popolazione terrestre in particolare dei popoli orientali dove la gente di ogni ceto sociale è molto attenta alle reminiscenze Grazie a tutti